In considerazione dell'andamento dell'epidemia di Covid in Toscana, in zona arancione ma con molte zone rosse istituite a livello provinciale o di area, il presidente della regione Eugenio Gianni ha deciso di emanare una nuova ordinanza che vieta di raggiungere le seconde case a coloro che provengono da un'altra regione. Questa volta sarà un'ordinanza per un periodo localizzato, ovvero da qui all'11 di aprile, proprio il periodo prossimo alle vacanze di Pasqua e immediatamente successivo. Con molta trasparenza, facendo presente che l'aumento della densità della popolazione nelle località dove si concentra molte seconde case, in una situazione come quella nella Toscana di oggi, è inopportuno. Mi auguro che il provvedimento possa avere gli effetti che ci proponiamo proprio sulla pandemia. Il presidente ha comunque voluto sottolineare un dato positivo registrato in Toscana negli ultimi giorni. La diminuzione e riduzione di ricoverati negli ospedali. Oggi siamo a meno 30 e soprattutto meno 6 terapie intensive. Quindi significa che in qualche modo sta avvolgendo a una situazione di ricomposizione con le proprie famiglie quello che era stato l'alta intensità di quattro settimane fa di ingresso negli ospedali. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni anti-covid, l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini ha dichiarato che entro 20 giorni tutti gli ultraottantenni riceveranno la prima dose. Noi stiamo lavorando su più fronti. Il primo è quello dell'accelerazione della vaccinazione agli over 80. Nei prossimi 20 giorni tutti gli anziani saranno chiamati dai loro medici di famiglia. La prima somministrazione dovrebbe concludersi intorno al 25 aprile e il richiamo intorno a metà maggio. Questo è l'obiettivo di accelerazione della vaccinazione degli over 80 al quale stiamo lavorando e sono convinto che dai prossimi giorni a partire da martedì prossimo vedremo concretamente un'accelerazione molto forte della campagna vaccinale per gli ottantenni e per i novantenni. L'assessore invita comunque la popolazione alla massima attenzione. Situazione sotto controllo ma occorre mantenere altissima la guardia, grande prudenza, grande attenzione ai comportamenti perché ancora il coronavirus sta girando in maniera abbastanza diffusa su tutti i territori. Grazie. Grazie. Grazie.